Amici buongiorno, andiamo a Roma, andiamo a Capitale Italia, andiamo a visitare Stadio Olimpico, bellissimo, io sono già stata, dove fanno tutti i partiti di Lazio e altre squadre, noi siamo molto molto tifosi di Lazio perché mio uomo è di origine Lazio e lui proprio da bambino, da piccolo, ce l'ha questa passione nel sangue per Lazio e non si perde nemmeno una partita di Lazio, oggi abbiamo stasera incontro con tutti i tifosi, i suoi amici di Lazio, andiamo a visitare Stadio Olimpico e poi andiamo a visitare soprattutto Museo, Museo, io non lo so se andrò io o andranno solo loro, comunque 30 persone, tutto organizzato, tutto programmato, tutto pagato, andiamo a visitare Museo di Lazio. Dopo, dopo Museo sarà, andiamo in pizzeria, faremo una cena insieme, anche qui tutto organizzato, pagato e tutto pensato prima. E' molto bello perché è un bel incontro, sarà con tutti i tifosi perché soprattutto lui sarà molto contento, abbiamo aspettato questo incontro con tutti gli amici e visitare soprattutto Museo e mangiare una pizza insieme, pizza non stop, ci vediamo più tardi.